Benvenuto sul canale YouTube di MilAnimal. È qui nello spogliatoio che registriamo tutte le puntate di The Locker Room ed è qui sotto che trovi tutte le nostre playlist, allenamenti, interviste e highlight. Se poi volessi saperne qualcosa di più sui nostri programmi di allenamento abbiamo un sito dedicato www.milanimal.tv. Registrati! Grazie a tutti!